Sono 14 le persone in custodia cautelare che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Ad individuarli è stata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara nel corso di un'attività di monitoraggio di numerose persone oggetto di misure cautelari sul territorio di Pescara. I 14 percettori del reddito di cittadinanza avevano incassato complessivamente oltre 95.000 euro, cifra che secondo la legge non era loro dovuta in quanto lo stato di detenzione è tra le cause di incompatibilità del sussidio statale. Il sussidio invece viene applicato ma in misura ridotta qualora il detenuto non sia direttamente il beneficiario del reddito di cittadinanza ma appartenga allo stesso nucleo familiare. Tra i furbetti del reddito di cittadinanza ci sono persone detenute per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti ma anche perseguiti per reati contro il patrimonio, usura, estorsione e furto. Tutte le posizioni illecite, dicono i finanzieri di Pescara, sono state denunciate alla Procura della Repubblica per aver fornito false o omesse dichiarazioni. Contestualmente le fiamme gialle hanno anche denunciato l'accaduto all'Inps che dovrà provvedere a revocare il beneficio e da recuperare le somme indebitamente percepite con il reddito di cittadinanza.